Alla fine quanto ci è voluto, 4 mesi, 5 mesi e la bolla delle auto electric inizia a far vedere le prime crepe e soprattutto le dichiarazioni di alcuni amministratori delegati di grandi società iniziano a far allargare queste crepe ma venite con me e dopo la sigla ne approfondiremo il discorso Come vi avevo già accennato nell'intro si iniziano a sentire le prime dichiarazioni non tanto melate contro non l'elettrico in sé per sé ma contro l'imposizione di questo tipo di motorizzazione da parte delle alte sfere in particolar modo è notizia di pochi giorni fa le dichiarazioni di Tavares, cioè l'amministratore delegato di Stellantis Stellantis per chi non lo sapesse è un gruppo automobilistico formato da PSA, cioè Peugeot e Citroen e da FCA, quindi Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Chrysler quindi ad oggi uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo quindi le dichiarazioni che vengono fatte dall'amministratore delegato di Stellantis direi che hanno una notevole rilevanza ma leggeremo insieme qualcuna delle sue frasi estrapolate da questa intervista e le commenteremo insieme quindi andiamo a vedere quello che ha detto iniziamo con probabilmente la frase che poi racchiude tutto il discorso dice è un eufemismo definire brutale il cambiamento che viene imposto al settore automobilistico completamente deciso dall'alto cioè quindi non sono le case costruttrici che stanno spingendo che vogliono spingere verso questo tipo di motorizzazioni ma sono le alte sfere e quindi gli stati che stanno spingendo le case costruttrici a investire su questo tipo di automobili e soprattutto sulla loro produzione e sulla loro vendita ma andiamo avanti se per un'auto elettrica servono 35.000 euro per comprarne una analoga endotermica o ibrida a basse emissioni ne bastano la metà sarebbe più efficiente invece che puntare tutto su una singola tecnologia la stessa quella elettrica batteria che lascia aperti molti dubbi non solo sulla sostenibilità economica ma anche su quella ambientale non va quindi certo per il sottile Tavares indicando come una vera problematica questa spinta che gli stati vogliono dare alle case automobilistiche e mettendo anche in difficoltà non solo le case costruttrici ma anche l'utente finale che avrà difficoltà ad acquistare auto di così elevato costo e lo dice soprattutto perché questo gruppo come tutti sappiamo produce auto cittadine produce auto che non costano tantissimo che possono essere acquistate da gran parte della popolazione mondiale e questo tipo di vendite verrebbe meno per loro se si dovesse puntare solo sull'elettrico e quindi con i costi per la produzione di queste auto sicuramente elevati e addirittura dice del doppio ma andiamo avanti quando si guarda alle emissioni di carbonio derivanti dalle automobili si dovrebbe considerare tutte le emissioni del ciclo di vita del prodotto come abbiamo parlato in un altro video dalla produzione allo smaltimento se rendiamo la mobilità del futuro alla portata solo delle persone benestanti continueremo ad avere una flotta di auto circolanti più vecchie che continuerà a emettere inquinanti se vi ricordate nel video della settimana scorsa abbiamo proprio accennato a questo tipo di problematiche e sembra che abbiamo un pochettino anticipato i tempi comunque andiamo avanti la D inoltre sostiene che i governi i quali considerano solo l'emissione allo scarico non hanno ben chiaro la complessità del problema ambientale legato alla mobilità sostenibile e finiscono per causare l'aumento del costo dei veicoli per i consumatori come si fa a garantire una mobilità più pulita e accessibile che abbia un impatto significativo sulla riduzione della CO2 per farlo non basta avere auto green in vendita servono persone disposte a comprarle e quindi capaci di permettersele se non manteniamo l'accessibilità economica avremo un impatto sulla libertà di mobilità quindi si concentra concentra in questa parte delle sue dichiarazioni sul fatto che la maggior parte delle persone non riuscirà ad acquistare non potrà acquistare auto del genere che possono essere acquistate solo da persone benestanti e quindi tutti gli altri continueranno ad usare per tantissimo tempo le auto inquinanti che hanno già i modi per riuscire ad abbassare la CO2 sono tanti e non devono essere per forza legati solo all'elettrico ma andiamo avanti in un decennio le auto saranno 300-500 kg più pesanti di oggi questo porterà in tavola il tema dei materiali litio e cobalto in primis utilizzati per le vetture a batteria e dalla loro scarsità infine un monito per il futuro nessuno dovrebbe dimenticare da dove è venuta la decisione di puntare tutto sull'elettrico non è certo dell'industria automobilistica ritorna ancora ad insistere su questo fatto dobbiamo tenerlo presente per il futuro la tempistica di adozione dei veicoli elettrici dipende solo da quanto i governi decideranno di impattare sulla libertà della mobilità cioè ci è andato veramente giù pesante contro gli stati che vogliono e continuano a voler imprimere un'accelerazione sull'elettrico che non è sostenibile non è sostenibile anche per i problemi infrastrutturali che ci sono in tutto il mondo più poi per quello che comunque produrre e mettere su strada auto elettriche comporta per quanto riguarda l'inquinamento andiamo avanti se non siamo in grado di proteggere i margini quindi adesso parla proprio della parte economica delle case costruttrici se non siamo in grado di proteggere i margini su ogni veicolo elettrico che vendiamo rispetto a quanto succede oggi con le vetture convenzionali ci saranno ristrutturazioni e conseguenze sociali qui sembrerebbe una minaccia probabilmente in modo velato lo è ma non lo è verso i lavoratori che potrebbero avere conseguenze di una ristrutturazione del genere ma è logico che avvenga che possa essere così cioè se i margini si abbassano allora si punta sicuramente a marginare un po' di più e come lo si fa riducendo i costi e il costo principale purtroppo è rimane la mano d'opera Tavarece è chiaro lo sta dicendo a gran voce lo sta dicendo agli stati che si sono impuntati in questo senso le strade alternative all'elettrico o che possono viaggiare insieme all'elettrico ci sono vediamo l'idrogeno vediamo il biodiesel e vediamo anche le altre tecnologie che oggi aiutano comunque ad abbassare le emissioni di CO2 che riescono a farlo in un tempo ok un po' più lungo ma che sia più sostenibile per tutti cioè il biodiesel l'idrogeno gli e-fuel oggi possono essere immessi sul mercato senza stravolgere praticamente nulla perché possono essere immessi sulle nostre auto come sono oggi inquinando già di meno possono essere distribuiti con la distribuzione che c'è già oggi quindi non stiamo parlando di un futuro tra 20, 30, 40 anni ma stiamo parlando di domani c'è anche un altro piccolo apporto piccolo ne avevamo già parlato la D di Toyota è convinto che non sia l'elettrico e basta il possibile futuro anzi che sia completamente dannoso puntare solo sull'elettrico e di fatti vi leggo una parte di un'intervista che è stata fatta al direttore operativo del europeo la Toyota è pienamente impegnata sull'obiettivo di raggiungere la carbon neutrality a livello globale entro il 2050 e pertanto continuerà ad investire in molteplici tecnologie quindi non solo sull'elettrico non l'abbiamo visto e soluzioni innovative a basse emissioni per garantire di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in ogni paese e regione è importante dire questo perché in ogni paese e regione perché ci sono paesi in cui l'elettrico può essere gestibile un po' più delle altre ma ci sono altre regioni in cui l'elettrico non è possibile che venga gestito quindi quelle regioni continueranno ad inquinare mentre altre inquineranno un po' di meno per cui il discorso è semplice non siamo pronti come volevano farci credere entro il 2030 2035 per andare sul full electric non è possibile lo stanno dicendo a gran voce persone che sono all'interno dell'industria automobilistica personalmente io dico che hanno ragione mentre gli stati vogliono continuare a fare questa bella poesia del 2035 carbon free quando non è possibile ci saranno ancora miliardi di auto milioni di auto che cammineranno con i vecchi combustibili e questo deve essere il punto di partenza per riuscire ad inquinare di meno cioè permettere a queste macchine queste auto con il motore a combustione interna di inquinare di meno e poi pian piano si potrà arrivare con la tecnologia del futuro che comunque riuscirà ad abbassare i costi per le produzioni delle auto elettriche per la produzione delle batterie per magari l'idrogeno con le fuel cell i costi nel frattempo si abbasseranno e diventeranno alla portata di tutti dopodiché nel 2050 magari è più fattibile il mondo possiamo pensare ad un mondo automobilistico completamente voltato all'elettrico anche se poi da qui al 2050 le innovazioni tecnologiche possono essere sicuramente tante ok con questa notizia per oggi abbiamo finito penso di non dover aggiungere nient'altro ma ci tengo tantissimo a che nei commenti mi facciate sapere come la pensate anche se sono convinto che molti di voi molti di quelli che seguono il canale saranno d'accordo con me ok basta non ho nient'altro da aggiungere noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale ciao ciao ciao